Giovani, diciamolo pure, rispetto a me, no? Una decina di anni di differenza ce l'avevamo Vabbè, comunque non era quello Ho avuto questa esperienza con Noia Recordings Perché cercavo comunque una contaminazione seria Volevo fare qualcosa che si staccasse un po' dal solito blues Un po' 70's Questo che hanno? Questo recentemente, l'ultimo album Per cui abbiamo realizzato questo album Che suona, diciamo che è un po' eclettico come sound Il nome? Il Craft Songs Ecco, Carlo Barbagallo è stato il producer Devo dire che ha fatto un bel lavoro E' molto particolare comunque Però poi somiglia anche alle cose che faccio io A tutte le esperienze che avrai vissuto Beh, perché comunque sì, io sono molto contaminata Perché da quello che hai raccontato è stata una vita veramente bellissima Sì, ma perché quando senti tanta musica Cioè, a parte il blues Che è il primordiale però Quando senti tanta musica, capito? Per cui stiamo nel terzo millennio Fare una roba da puristi è ridicolo Non si può fare, capito? Anche perché credo, io insomma Dico anche da musicista Penso che c'è bisogno pure di andare oltre Musicalmente, cioè la musica è un modo per esprimersi Per esprimere proprio la creatività Per cui, cioè nel senso E' giusto ascoltare gli originali Per carità E impararli anche Però poi tocca staccarsi Dalla coperta di Linus E andare un attimo a esplorare E questo c'è Altri orizzonti Perché se no che suoni a faccia E questo c'è proprio Poi devi lasciare comunque i nuovi Che si imparano sempre Ricominciano da là Perché è un giro che fanno tutti, no? Poi piano piano però bisogna sempre Comunque comunque andare C'è stata talmente tanta musica da ascoltare Poi io penso a un ragazzo di vent'anni oggi Che veramente c'ha da ascoltare Cento anni di rock quasi, no? Comunque sotto Cioè per cui In effetti Tante volte posso anche capire Che magari non ascoltano niente Prendono e partono ex novo Da quello che sentono in giro Che percepiscono Suoni che percepiscono Nell'aria Perché io non sento molto la musica Sì mi capita di ascoltare così Però Diciamo che non ascolto proprio Sono stata individuata su Spotify, no? Gli algoritmi ormai mi fanno sentire Sempre la stessa roba, no? Scherzo Però è difficile comunque scoprire Perché c'è talmente tanta roba, no? No, ma c'è un mondo anche nuovo Diciamo che Ci sono poi tanti settori È un mondo nuovo Che c'è nel senso Sta nascendo E sta comunque Entrando dentro A una generazione Che ha bisogno di qualcosa C'è l'elettronica Come tu hai detto prima Rispetto per esempio All'uso di internet Però Diciamo che il punto Secondo me È fondamentale Che poi è quello Che porta Diciamo Incarna Elettri TV Che dà spazio Alla musica originale Quindi alla creatività È fatto proprio Di esternare La propria musica La propria arte E quindi Cioè nel senso Ma te senza microfono Ma ti si sente? Sì, sì, sì E quindi Vabbè Che altro Possiamo dire Cioè Mi sono scordata Qualcosa Però Intanto Cioè voglio dire Nel senso Mi sono capito Sto un po' Parlare col microfono Così Fa strano Capito Non riesco a Un invito Insomma a comprare Cioè O acquistare Insomma Per la tua musica Quali album Possono No vabbè Io ho fatto Questo Questo Craft songs Che Chiaramente Che per me È il più interessante Però poi Ci stanno magari Quelli che piace più Il blues Tradizionale Che allora Devono ascoltare Gli altri dischi Che ho fatto prima Però il blues blues Per esempio Era molto rock Allora L'altro disco Era Roman Blues Woman And the Gypsy Blues Band Quello con regista New Orleans Con DJ Forest Su tutti i dispositivi digitali? Sì, sì Ci stanno tutti Poi c'è Ha fatto anche io Un progetto con Leno Landini Abbiamo fatto Perché poi È uscito fuori Un EP Che si chiama Delta Duet Abbiamo fatto anche Un saluto a Leno Che è un grande Un periodo Mi sono divertito Ecco Ci voleva Leno Per esempio Qui oggi Ciao Leno Quando ci dobbiamo Ricontrare Mancherà occasione Che dovrà venire Per cui Ci troverà Nella prossima occasione Comunque abbiamo fatto Belle serate Quell'anno Quando stavo in giro Per promuovere Il documentario Pure questo Andatevi a vedere Viaggio nella terra Del blues Sul mio Sul mio youtube Ci sta Una playlist Dove c'è scritto Docu Documentari E lì ci sta Pure il film Quello che dicevi prima Con la moto Bellissimo Quello è carino Però non lo dico Perché l'ho fatto io Perché comunque Potrei anche lanciarmi Magari in un'altra Carriera parallela Di regista Di viaggi Ho fatto un altro viaggio Un appendice A questo viaggio È stato quello Che ho fatto in Norvegia Quando sono stata Al Notodden Blues Festival A presentare Questo documentario E sono rimasta Veramente colpita Dalla scena Blues Norvegese Cioè veramente Non pensavo Di trovare Un par caniselle No perché è veramente È una specie Di mondo a parte Quest'anno Totden Capito È un paese Che sta in mezzo Ai fiori In Norvegia Che non c'entra niente Con tutto il resto Perché praticamente È un paese Che c'è una storia Pazzesca E praticamente Hanno gemellato Con Clarksdale Che è la capitale Del Delta Blues In Mississippi No E Praticamente Sono trent'anni Che loro C'hanno questo gemellaggio Stanno nella mappa Del Blues Trail Che è praticamente La mappa Del Blues Del Mississippi No E se tu vedi Su questa applicazione No L'Apri Ci sta Il Blues Trail E vedi Mississippi E poi vedi Questi Questi segnali In Norvegia Dici Ma come cavolo C'è arrivato Fini in Norvegia Capito Perché Cioè ti sposti Un po' Lo vedi Che sta in Louisiana Dal Mississippi E poi arriva Fini in Norvegia Assurdo Assurdo Non solo Metal Sinfonico Ecco Io vorrei tanto Che una città In Italia Fosse gemellata Con il Blues Trail Del Mississippi Dovrebbe essere Matera Secondo me Perché i ragazzi Di Matera Hanno fatto Un Blues Festival Vemente Bellissimo Nella In quella cava Pazzesca Dove io sono stata Pure a presentare Il disco L'anno scorso Quest'anno Non l'hanno fatto Purtroppo Sempre questo E quindi Niente Magari Matera Un giorno Sarà gemellata No Cioè Nel senso Queste sono notizie Che sono Aspicabili E bellissime Comunque C'è nel senso Un punto di riferimento Per i Bluesmen In Italia Sono stati Umbria Jazz E Pistoia Blues Sicuro C'è nel senso Guarda No Ti dico Però le cose Sono meglio Sì Però Pistoia Blues È diventato Un festival Commerciale A parte il fatto Che ci suonano Però ci suonano Non ci stanno più I blues Ci stanno Altri artisti Che comunque Magari vengono Anche dal blues Però tu cerchi Una scena Ma spieghiamo Che anche le piccole Realtà sconosciute Vengono Insomma Sì però Secondo me Pistoia Blues Non rappresenta Il blues In Italia No Però Rappresenta Nella buona musica Per carità Ma non il blues Più È cambiato adesso È diventato Più mainstream No E va bene Questo Però è cambiato Per cui Secondo me Io conosco Questi due punti Che è South Italy Blues Connection Per il sud E Blues Made Italy Per il nord Che fanno Organizzano queste Sono delle convention Molto grandi Comunque ci viene Un sacco di gente E c'è Sono dei raduni Dove L'altro lo fanno A Cervia L'avano fatto a Cervia L'ultima volta E non so Se lo rifaranno Quest'anno Perché lo fanno Ad ottobre E anche lì Insomma C'è un bel fermento Ci sono Tante Ma anche Mojo Station Organizzano Dei Mini festival Blues Tutti gli anni Io sono stata A vedere Comunque sempre Roba Mojo Station E dove è È una radio Ah Un'organizzazione Concerti Comunque fanno Fanno parecchie cose A Roma Fanno ogni tanto Questi festival Insomma ci sono Delle cose Si muovono Delle cose In Italia Insomma Non è che magari Sono sempre meno Retribuite Però Questo Cioè Purtroppo Anche adesso Però si continuano A crescere Vabbè E vabbè Allora a questo punto Ci possiamo anche salutare Perché sta facendo No C'è il tramonto E facciamo un auspicio Insomma Il sole però Non si vede Il sole Vabbè Sì E Questa è l'intervista Più particolare Della mia E quindi L'auspicio Per la musica Per te Per te Così Così Ecco vai Vabbè Comunque dai Ce sta Ce sta così Speriamo di tornare E di organizzare Una specie di Wustock Qua ci sarebbe Sarebbe che ho fatto Anche un progetto Una band La Wustock band No abbiamo suonato Anche l'anno scorso Che era il cinquantenario Di Wustock Iniziamo quando Ci fu il quarantennale Abbiamo fatto Dei concerti pazzeschi Pure con quel gruppo lì E qui ci sarebbe D'addio Perché Emma Qua diciamo Quei principi De quel movimento Li incarna Senza Barriere Senza Confini Cioè nel senso Andare oltre La rottura Dei confini Spazio-temporali Come ha fatto pure Quindi Hendrix Ritornando all'inizio Attraverso L'elettrodistorsione L'elettrodistori